Allora procediamo con la nostra raccolta di lezioni che vi ricordo sono sempre disponibili anche sul sito della Fondazione Fare Futuro. Benvenuti a tutti quanti gli studenti che sono collegati attraverso la nostra piattaforma Zoom e a quelli che ci seguono anche dai social network. Resta forte la nostra attenzione e proiezione verso le aree naturali di interesse prioritario come i Balcani, il Mediterraneo allargato, con particolare attenzione alla Libia e al Mediterraneo orientale e all'Africa. Così Draghi nel suo discorso al Senato ha inaugurato la sua azione di governo e proprio con queste parole voglio introdurre il tema di oggi che è appunto quello del Mediterraneo. In effetti poi le parole di Draghi dal mio punto di vista rappresentano un po' due aspetti di questa questione del Mediterraneo. Da un lato abbiamo un aspetto un po' anche ovvio per certi versi per una nazione come la nostra che è situata nel centro del Mediterraneo e un po' come diceva Napoleone, la politica di uno Stato è nella sua geografia. Forse la citazione è un po' apocrifa però il contenuto corrisponde alla realtà dei fatti. Anche perché ogni volta che la penisola poi ha ricoperto un ruolo di guida lo ha fatto perché un po' assecondava la sua geografia politica e quindi attraverso una costruzione di una geostrategia in tal senso è riuscita poi ad avere un ruolo di guida. Pensiamo all'impero romano, pensiamo alla Serenissima, sono due esempi un po' lampanti ma che sicuramente non hanno smentite. Il secondo aspetto invece riguarda il contrario, la dimensione che il Mediterraneo sta assumendo sul piano geopolitico. Quindi non è più diciamo un bacino incastonato tra Europa, Africa e Medio Oriente ma è diventato una via acquatica di collegamento tra queste due diverse sezioni dell'oceano. In sostanza il mare che è sempre stato considerato un mare chiuso, quasi un bacino, è diventato la principale rotta di collegamento tra due aree precise che è l'Indo-Pacifico e l'Atlantico. Quindi è cambiato completamente il paradigma e questo dovrebbe un po' come dire come Italia farci capire anche il ruolo nostro nella partita egemonica che ci sta tra Stati Uniti e Cina. In questa partita il Mediterraneo quindi perde un po' il ruolo di mare e diventa una sorta di oceano e di via strategica tra questi due oceani. Basta guardare un po' anche a quello che sta succedendo con la nave giapponese incaiata nello stretto di Suez, addirittura si parla di possibili blocchi di produzione per mancanza di forniture. Tutto questo ovviamente rappresenta un'enorme quantità di approfondimenti e per fare questo abbiamo l'onore di avere il giornalista scrittore che non ha bisogno di nessuna presentazione e lascio subito la parola a lui dandogli il benvenuto Pietrangelo Buttafuoco. Prego. Grazie, grazie a tutti quanti sono collegati adesso, a chi partecipa. Mi permetterete un grazie particolare ad Adolfo Urso con il quale ho una consuetudine, insomma siamo cresciuti insieme, abbiamo avuto tante esperienze, quindi grazie ad Adolfo e a tutti voi per questa possibilità. Io mi ricordo che quando mi sono stato invitato avevo immaginato la data più lontana possibile ma solo perché speravo ci fosse la possibilità di farla in presenza e appunto il destino ha deciso altrimenti. Ma sono ben lieto di partecipare la mia seconda volta con la vostra fondazione. Ho un bellissimo ricordo della prima e sono entusiasta di fare questa seconda. Entusiasta a maggior ragione perché il tema, il Mediterraneo, in un certo senso è un po' il mio abito da tutti i punti di vista. Potrebbe essere esistenziale, potrebbe essere perfino letterario, potrebbe essere quindi scavato nella vena viva di quella che poi è la mia natura, il mio mestiere, il mio essere un artista e uno scrittore, ma poi è giusta la citazione di Napoleone, è sicuramente un segmento politico fondamentale perché il vero senso della politica ha ancor più che nella storia, ancor più che nell'esercizio di memoria e nella geografia ed è l'inciampo fondamentale in cui l'Italia gioca un ruolo ben preciso di volta in volta segnato o in una prospettiva attiva o, ahi noi, in quella passiva, in quella in cui si è costretta da sempre in un ruolo passivo fino a lecarsi le ferite di conseguenze che non sono soltanto, come si potrebbe immaginare, di natura diplomatica o di semplice dignità di nazione, ma vanno a toccare il portafoglio. E la giornata di oggi, proprio quella di oggi, è particolare perché noi siamo finalmente in presenza di un fatto politico importante, cioè il ministro degli esteri Luigi Di Maio si è recato per preparare la visita del presidente del Consiglio in Libia. Ora, tutto questo ha un'importanza particolare soprattutto sul tema del nostro incontro che è quello del Mediterraneo perché la vera politica è la geopolitica, è proprio la Libia, rappresenta l'inciampo fondamentale d'Italia perché lì abbiamo pagato un prezzo altissimo quando, lo ricordate tutti, noi abbiamo perso la nostra posizione geografica proprio perché nello scenario del Mediterraneo noi avevamo un ruolo particolare, quello di essere il paese guida e il paese guida è un ruolo su cui in questo scacchiere del Mediterraneo tanti hanno voluto partecipare, tanti hanno giocato, hanno giocato sporco soprattutto la Francia, soprattutto la Francia quando è intervenuta in una fase particolare della nostra storia, lo ricorderete tutti sebbene siate giovanissimi, è stato quando e quando durante il governo Berlusconi in un capovolgimento di segni è sembrato ripetersi la scena cinematografica per eccellenza del tradimento, quella di Alberto Sordi quando telefona o ripilato dicendo il tedesco è passata al nemico, si è ripetuta la scena con i libici che vedevano gli aerei italiani mobilitati in un conflitto dove invece che risultare partecipi di un'alleanza siamo stati costretti a subire una guerra voluta da altri e soprattutto costretti a subire l'umiliazione di un Gheddafi braccato e massacrato durante quella sporca guerra voluta dalla Francia. Ecco che cosa succede? Succede che tutto ciò che ci aveva reso protagonisti nel passato e protagonisti lo eravamo stati con quel governo di Berlusconi, poi a poco a poco abbiamo visto fallire ogni accordo, ogni possibilità per questa dissennata politica militare francese ma anche in parte americana. E qui veniamo al punto dolente e cioè che questo episodio della Libia rappresenta e spiega il deficit fondamentale con cui l'Italia fa i conti da moltissimo tempo ormai. Molto spesso mi piace scherzare con gli amici sovranisti dicendo che non si può fare il sovranismo in assenza di sovranità perché non avendo noi nessuna possibilità di sovranizzare su alcunché il sovranismo è solo un esercizio retorico e allora siccome la politica si fabbrica si costruisce con i dati reali e concreti i dati reali e concreti del Mediterraneo innanzitutto ci dicono una cosa che il caso Libia rappresenta il punto di caduta fondamentale da cui cominciare a ridisegnare lo scenario. E ci dice anche che il Mediterraneo non è soltanto un problema di immigrati o di traffici di esseri umani nelle acque gli scafisti. Il Mediterraneo è il transito della contemporaneità. Mi è piaciuto moltissimo quando nella presentazione c'è stata proprio questa descrizione di quello che cos'è di quello che è diventato il Mediterraneo che non è più marginale rispetto ai grandi blocchi continentali è il transito della contemporaneità non fosse alto perché in quello scacchiere si è presentata una situazione che forse fin uscito due giorni fa il Corriere della Sera ancora lamentava in una ita ita evocando l'aiuto dell'alleata americano per via della presenza di due soggetti politici particolari e delicati e io cercherò di di ragionare assieme a voi se questi soggetti politici e cioè la Turchia e la Russia nel Mediterraneo stanno svolgendo un ruolo ostile rispetto a quello che aveva tentato di fare la Spagna e non c'è mai riuscita aveva tentato e ha tentato malamente con risultati spaventosi la Francia il caso Libia lo insegna oppure il disinteresse di altre potenze perfino l'Inghilterra un tempo interroghiamoci sul caso Turchia e sul caso Russia come sapete le conseguenze nefaste di quella che fu la guerra in epoca era la guerra fatta dai francesi contro Gheddafi le conseguenze nefaste furono quelle di propagare le cosiddette rivoluzioni arabe cioè la sensazione di immaginare la possibilità di far baluginare Liberté Galité Fraternité in salsa occidentalista e consentire quindi l'esplodere di altre rivolte ci fu un gioco osceno che si consumò oltre il Maghreb poi in Siria e con le conseguenze a tutti note cioè le bombe lì bombe di fiamme fuoco con i morti e le bombe migratorie invece nelle nostre coste o in genere in tutta Europa questo che cosa ha portato nello scenario l'arrivo di due soggetti particolari uno è la Turchia e l'altro è la Russia intanto una notazione sia la Turchia che la Russia sono eredi di un'impronta ben precisa ovvero quella imperiale e quando noi evochiamo l'identità imperiale sappiamo perfettamente di rapportarci ad una identità ad una profondità una storia plurale voglio ricordare che so per esempio eh salvi dio l'austriaco regno era cantato in italiano e contemporaneamente in il ladino e poi in tedesco in tutte le lingue per cui impero asburgico aveva tante declinazioni tante lingue lo stesso modo l'inno imperiale zarista aveva eh il russo e poi l'infinità di lingue del centro Asia allo stesso modo allo stesso modo la Turchia non è una identità eh chiusa e rinchiusa in una sola nazione bensì è erede di un'antica suggestione che è quella ottomana tant'è che su Erdogan si parla di una ideologia neo ottomana qual è in questo contesto attuale l'esito? Allora sicuramente la Turchia ha un linguaggio un'immagine e una presenza che suona comunque familiare nell'area magrebina nel senso che i magrebini dovendo scegliere se avere a che fare con i francesi o con i turchi ovviamente hanno un agio e una eh immediatezza con eh la Turchia non fosse altro perché c'è una comunanza di fede c'è anche una comunanza di costumi e c'è comunque un un meccanismo diciamo di complicità remota antica che va a svegliarsi e cioè il ricordo che nel passato non è mai un esercizio di riduzione di erudizione ma è un un qualcosa che comunque si sveglia nelle identità lo verifichiamo noi stessi e in Italia l'esempio vale per la mia Sicilia come vale per per il nord Italia dove la possibilità delle tante influenze di volta in volta creano sempre queste mescolanze universali e il Mediterraneo è un luogo universale per eccellenza ma andiamo all'altro soggetto particolare che apparentemente sembra essere estraneo al Mediterraneo cioè la Russia la Russia ha nei secoli sempre avuto quest'ansia di avere di trovarsi uno sbocco nel Mediterraneo e qual è stato l'elemento che ha permesso in queste nostre stesse giornate in queste stesse ore la possibilità di intervento nel Mediterraneo è stato per tramite della Siria tutti voi ricorderete che cosa è accaduto in Siria per molti in Siria c'è stato il tentativo diciamo della democrazia della libertà di trovare un esito in una rivolta che è stata caldeggiata sostenuta acclamata in occidente nel tentativo di ribaltare l'egemonia di una dittatura per altri invece e purtroppo ne abbiamo pagato anche le conseguenze è stato anche il tema il motivo per sviluppare uno dei più immondi focolai di fondamentalismo islamista tant'è che certe domande che il giornalismo non si fa se lo fanno sicuramente gli analisti della geopolitica trovano risposta e quindi anche delle conseguenze logiche a queste risposte per esempio chi ha liberato Palmira Palmira che tutti sappiamo e ricordiamo è il luogo in assoluto della bellezza per le sue vestigie il luogo dove si sono consumati terribili omicidi stragi dove dove noi abbiamo assistito anche alla distruzione di queste memorie Palmira è stata liberata dai russi i quali si accompagnavano e qui arriva il terzo soggetto che tanta ansia procura dove si erano uniti chi i volontari organizzati da un personaggio particolare di cui comincerò a parlare erano veramente erano i volontari reclutati tra le milizie di Qassem sulemani sto parlando proprio del generale iraniano che ha preso parte nei momenti delicati nei momenti più cruenti di lotta all'isis alle frange di alcaida quindi fondamentalisti islamici che rappresenta il paradosso dei paradossi sto parlando quindi di quel generale iraniano Qassem sulemani che giusto un anno fa nel 2020 viene assassinato per ordine preciso di Donald Trump e qui c'è un bel capovolgimento un bel testa coda una bella contraddizione in quelle che sono le logiche dei sovranisti nel cercare di capire come muoversi e lo scacchiere della geopolitica cioè la sostanza qual è che proprio sul mediterraneo paradossalmente ma ai noi duramente siamo alleati di chi nella sostanza sostiene e appoggia i fondamentalisti e siamo nemici di chi invece sul terreno combatte contro questi fondamentalisti perché se non ci fosse stato l'intervento della Russia se non ci fosse stato l'intervento non ufficiale ma ufficioso dei volontari delle milizie di Qassem sulemani sarebbe stato ben difficile non solo la liberazione di Palmira ma anche la liberazione dei tanti villaggi cristiani come per esempio simbolico fu la liberazione del villaggio di Malula il villaggio in Siria dove ricorderete i terroristi fondamentalisti abbatterono perfino la statua della Vergine la statua della Madonna un'immagine raccapricciante che ricorda quella ormai occultata dall'oblio della fucilazione del Cristo redentore durante la guerra civile in Spagna quando i cosiddetti buoni organizzarono un plotone di esecuzione contro la statua del Cristo a significare quello che poi stava succedendo e quello che è successo anche adesso all'epoca succedeva che per esempio si penetrava si sfondavano nei monasteri nei conventi nei seminari venivano passati per le armi e uccisi stavamo parlando della Spagna adesso la stessa cosa è successa nei tantissimi villaggi siriani dei cristiani dove i cosiddetti ribelli che erano sostenuti da editoriali commossi e partecipi di Bernard Rilevy e della grande stampa occidentale in realtà hanno consumato e perpetrato dei massacri spaventosi stabilendo poi una vera e propria sovranità ripeto una vera e propria sovranità territoriale non tanto in Siria che può essere lontana rispetto ai nostri confini ma proprio a pelo del mare italiano nel Maghreb fino ad arrivare in Libia con infiltrati e con meccanismi pericolosissimi che soltanto due forze due soggetti dello scacchiere due terribili nemici per noi cioè la Turchia e la Russia sono riusciti a tenere a bada e in tutto questo l'Europa non ha potuto muovere becco fin qui potrei concludere la parentesi politica ma mi accorgo che anche a sconfinare in un ambito che è quello della cultura della memoria della letteratura e perfino nel dibattito filosofico legato al Mediterraneo mi rendo conto di tornare a bomba su questioni squisitamente politiche e l'argomento può essere spiegato in questi termini il Mediterraneo non è soltanto un luogo geografico è innanzitutto un progetto politico che ha un suo radicamento nei millenni e a maggior ragione proprio perché nei millenni radicato ha una sua squisita specialità per rappresentare e raccontare il futuro innanzitutto il Mediterraneo è il luogo dell'universalità fuori da qualunque retorica irenistica non fosse altro perché sono ben quattro le civiltà a cui fare riferimento e queste quattro civiltà nell'ordine sono la civiltà egiziana la civiltà persiana la civiltà greca e la civiltà romana se ci fate caso in queste quattro civiltà ci sono le quattro radici di un'idea che non si esaurisce nell'imes del Mediterraneo ma sconfina tant'è che noi facciamo riferimento a delle categorie della politica a dei ben precisi principi della geopolitica dove ognuna di queste identità ci torna utile per raccontare la contemporaneità universale e ancora una volta il sovranismo difetta perché non si rende conto di quanto il percorso identitario sia debitore di un progetto e di un processo che non si è mai esaurito a dispetto degli esiti politici chi se lo poteva mai immaginare che nella giornata di oggi saremmo arrivati a questo fatto politico importante di ritorno in Libia chi se lo poteva immaginare che sarebbero ritornate delle potenze imperiali chi se lo poteva immaginare che le vene vive del passato che pensavamo ormai abbandonate nei libri di scuola o tutto al più nel folklore diventassero la sostanza viva partecipe di un qualcosa che si accompagna agli eserciti alle scelte strategiche e alla volontà politica vedete potremmo noi dire che l'ultima volta in cui l'Italia ha giocato questo ruolo di strategia fu col governo Berlusconi poi malamente concluso con l'intervento francese ma ci sono tutta una serie di percorsi a cui attingere dove ancora una volta le quattro città egiziana persiana greca romana ritornano perfino nella memoria industriale nella storia industriale della cultura italiana se con Enrico Mattei noi ritroviamo non tanto l'eccentrico imprenditore che con le sue intuizioni va a cercarsi gli idrocarburi tra le sabbie più disparate ma colui il quale riesce ad accompagnare un intero gruppo politico un'intera stagione politica in un percorso che gli consente di costruire di dare la modernità agli italiani degli anni 70 per esempio fino agli anni 60 fino a quella che fu la stagione della mitica lira italiana che riuscì ad essere partecipe in un orizzonte molto più ampio e ancora una volta quindi dove l'Egitto, la Persia con quella doppia identità greco romana che solo il Mediterraneo ha saputo contenere e affidare e destinare al mondo e mi rendo conto che non riesco a uscirmene fuori dall'ambito politico perché l'esigenza prima per costruire il futuro per i nostri ragazzi se non attraverso questa consapevolezza del Mediterraneo quella che è venuta a mancare al ceto politico europeo è una visione ampia, una prospettiva che paradossalmente hanno più i tedeschi di quanto possano averlo gli spagnoli o i francesi o gli italiani e cioè questa idea di uno spettro, di una possibilità, di un transito del futuro che si gioca solo nel Mediterraneo altrimenti non avremmo mai visto questo gioco partecipe delle ex potenze imperiali nell'impossessarsi di questo segmento di territorio io capisco perfettamente che bisogna sempre fare delle scelte di campo so perfettamente che l'impoliticità del sovranismo è arroccata a questa parodia di un'alleanza occidentalista che ancora una volta spera e si augura che trovi negli Stati Uniti il gendarme per risolvere determinati problemi ma io pongo anche un problema di sensibilità, di idem sentire, di linguaggi e allora mi scuserete se utilizzo dei paradossi apparentemente strampalati ma se noi seguiamo l'itinerario di San Nicola e che da Bari ci porta verso le nevi e le distese algide del nord noi sappiamo che lì segue un percorso e un filo che forse per noi può essere soltanto folclore ma che per altri invece è un destino vero e un destino vivo la cosa mi ha incuriosito quando ho scoperto i dati, le cifre, i numeri di un business particolare che è quello dei pellegrinaggi ovvero se magari il culto di San Nicola può essere limitato soltanto all'area di Bari e della Puglia a poco a poco ci si rendeva conto che invece questo culto diventava sempre più forte sempre più pressante nel momento in cui con la caduta dell'Unione Sovietica si risveglia il sentimento religioso e anche le possibilità di viaggio dei russi e quindi i pellegrinaggi, badate bene, sono i transiti non soltanto della fede ma anche dei beni, delle merci, dei commerci, degli interessi ed è un transito che disegna un percorso ben preciso e che quindi fa dei confini quell'imes permeabile agli umori ed è così estranea quindi la Russia dal Mediterraneo ci chiediamo è mai possibile immaginare se vale ancora il parametro delle identità e quindi circoscrivere il perimetro dei culti e delle confessioni le famose radici cristiane dell'Europa come si fa a immaginare un'Europa escludendo la più potente nazione europea la più cristiana tra le più potenti nazioni europee qual è la Russia ecco come vedete c'è un ribaltamento di prospettiva che consegue sempre alle domande e che cerca nelle risposte più che delle logiche soluzioni, delle vere e proprie sorprese che cosa ne viene allora da capire di come raccontare il Mediterraneo fuori dalle solite retoriche vedete i meccanismi attraverso cui la politica diventa geopolitica hanno spesso degli addobbi, degli sforzi, proprio dei bovarismi che è quello di volersela raccontare in un certo modo la sostanza è sempre l'interesse il fondamento e il moto della geopolitica è l'interesse che può diventare interesse nazionale, interesse di un'alleanza interesse rispetto a una strategia è una categoria a ideologica è una categoria che comunque impone nel dibattito politico una serie di conseguenze dettate dall'interesse e io apposta vi faccio un esempio che potrebbe sembrare urtante rispetto a certe sensibilità ma l'Inghilterra che da sempre ha cercato di controllare nella storia il transito nel Mediterraneo staccandosi da se stessa staccandosi poi dall'Europa che cosa ha determinato? ha determinato una restituzione un restituirsi a un ruolo che è quello, ancora una volta, imperiale di poter contenere tutte le molteplici differenze di essere comunque pronta ad una dimensione che non sottostà alle regole, diciamo, degli sconfitti e quindi mi sto rendendo conto di proporvi un esempio ancora una volta imperiale e cioè di una realtà statuale, sovrana plurale nelle sue identità che riesce a essere presente nel mondo e questa è la disperazione, il dispiacere che tocca noi italiani nell'avere noi rinunciato a quella che poi è una essenza tipicamente nostra costruita nel Mediterraneo di essere una realtà plurale, universale vorrei ricordare che la Chiesa Cattolica si chiama Cattolica proprio perché deve contenere questo senso dell'universalità e vorrei ricordare che l'identità greco-romana ed è questa l'essenza stessa dell'Europa contiene poi gli echi e i rimandi che arrivano in tutto il mondo vorrei ricordare che per esempio l'identità greco-romana presuppone un transito che è quello dalle mura di Ilio fino ad arrivare a Roma dove l'idea stessa dell'Asia è un transito più che di parentela di un vero e proprio amplesso l'immagine la ricorderete tutti è quella di questa donna che viene rapita dal toro l'immagine è quindi questa Europa che va a saldarsi, a costruirsi in un incastrare l'Asia nella sua stessa natura nella sua stessa carne e quindi vorrei ricordare che il Mediterraneo è per noi l'argomento forte su cui costruire un progetto politico molto più di quanto possa essere l'Europa in quanto tale perché vi dico questo? perché io ho riconosciuto nel Mediterraneo un qualcosa che certo mi riguarda tantissimo nel mio diciamo nella mia fatica nella mia fatica di artista perché nella scrittura nello spettacolo nella poesia stessa io mi sono ritrovato sempre con questa dimensione dell'universale siciliano che ha una versione particolare della civiltà che dall'antichità all'epoca di oggi ci porta in un universo fatto di tante lingue di tanti colori di tante dimensioni ed è ancora una volta se vogliamo usare un'immagine forte quella del tedesco che volle farsi saraceno per vivere in Sicilia cioè Federico II ed è un seme che Goethe nel suo viaggio andò a cercare proprio a Palermo andò a cercare proprio nella città di Palermo nell'orto botanico perché la pianta da cui ha origine tutto è la pianta originaria e ci sono tante suggestioni che ci fanno capire come tutto quello che noi pensiamo sia soltanto un retaggio del passato è il nostro eterno presente tant'è che per esempio anche lo conferma lo stesso orizzonte il fatto stesso lo diceva Franco Battiato che giusto ieri faceva il suo compleanno in una in una conversazione diceva che quando io me ne vado a Baghdad o a Tripoli o mi spingo fino a Samarkand ne osservo la gente e riconosco mio cugino il mio vicino di casa i suoni stessi e io ritrovo qualcosa che che trovo dentro la stessa cosa ovviamente per chi se ne va nelle lontane Americhe ma la stessa cosa capita per chi per esempio ha un'idea stessa di centralità e in quella idea di centralità c'è la responsabilità vedete è bellissimo che si sia partito stasera proprio con la citazione di Napoleone e quindi grazie perché la politica è innanzitutto geografia avere rinunciato alla responsabilità nei confronti dell'Africa per esempio è un disastro geopolitico ma è un disastro culturale inenarrabile avere quindi rinunciato a quella responsabilità e sto parlando dell'Africa non del Maghreb significa non avere proprio il senso di tutta quella memoria che ci aveva dato una direzione allo stesso modo e qui veniamo alla conclusione dopo aver evocato i due nemici fondamentali e qui verrebbe bene la citazione di Selin che colpa ne ho io se il nemico ha ragione quindi avendo evocato la Russia da un lato e la Turchia dall'altro c'è adesso il terzo nemico totale che è presente nella scena a maggior ragione presente nel Mediterraneo dove apparentemente non avrebbe nessun motivo per starci ed è la Cina perché la Cina è nel Mediterraneo perché la Cina ha una precisa strategia perfino per la mia Sicilia perché per esempio la politica si fa con la geografia la politica che si fa con la geografia ci fa sapere che proprio a Gela c'è la possibilità di costruire un porto per l'alto pescaggio cioè per quelle navi importanti pesanti che hanno necessità di un di un importante pescaggio per attraccare e perché la politica che si fa con la geografia sa consente di evitare un percorso ancora più lungo per arrivare che so in Danimarca in Svezia cosa c'entra Gela con la Danimarca e con la Svezia c'entra perché per esempio le navi ad alto pescaggio arrivano lì scaricano le proprie merci e da lì le merci se ne vanno dritte dritte in Danimarca in Svezia nel nord invece che continuare il percorso lungo dallo stretto di Gibilterra e quindi risalire 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 la politica che si fa con la geografia presuppone che si faccia con i libri presuppone che si faccia seguendo tutte le sfumature possibili ma soprattutto inseguendo e capendo il futuro il transito del futuro è nel Mediterraneo perché la dico brutale perché l'Africa è il luogo da cui attingere e le terre rare e gli esperimenti e le energie perché ed è brutto dirlo però non si può non dire ancora una volta la politica che si fa con la geografia quindi la geopolitica che è l'unica politica è volontà di potenza la politica che si fa con la geografia la geografia quindi che ci costringe alla geopolitica è studio è analisi è strategia è solo questo affinché l'interesse consenta a chi sa giocarsela meglio la possibilità del futuro non è un caso che si chiami il grande gioco secondo le regole del grande gioco il cuore della terra è nel centrazia questo aveva senso e valore al tempo in cui si fronteggiavano il leone britannico con l'orso russo adesso il cuore della terra il centro è tornato a essere il mediterraneo perché tutta quella immensa distesa di vita si rigenera e si crea attraverso l'orchestrazione l'amministrazione la gestione di un ben preciso spicchio del pianeta ed è quello dove noi possiamo essere forti nel metterci i contenuti le suggestioni le idee altri possono essere forti mettendoci mettendo a disposizione di questo concerto di questo schema di questo gioco le risorse e la possibilità di dare al futuro la vita è è terribile dire queste cose dirsele nel frattempo che siamo costretti a parlarci attraverso questo marchigegno non perché questo marchigegno sia fragile anzi rappresenta la molteplicità delle possibilità ma perché viene a mancare l'essenza il senso della mobilitazione politica che è quella di essere presenti avendo la possibilità di sentire sentire come facevano i nostri antenati che avevano la possibilità di annusare perfino la fragranza dalle onde che si frangevano quando un giovine giovane bello un virgulto riusciva aggrappato a un tirso ad attraversare quelle onde sto parlando del Mediterraneo inseguito dai delfini e lui col suo tirso arrivava di volta in volta nei luoghi e lui che è figlio di un dio partorito dalla coscia di un dio era così senso e sentimento e sensualità di innocenza da chiamare a sé la volutà l'acquolina il desiderio delle menadi che ne facevano strame se lo sbranavano e se lo mangiavano a se solo si potesse raccontare il Mediterraneo come solo a Siracusa al teatro greco viene raccontato se solo si potesse raccontare il Mediterraneo come solo lo possono raccontare i pescatori in quel mare se solo si potesse raccontare il mare come solo le vedette sanno individuare di volta in volta o come dall'alto degli aerei o dai satelliti si vedono i mille posizionamenti la gente che si muove tutto quello che si agita se solo si potesse raccontare anche attraverso gli sbuffi d'Etna questo Mediterraneo ci sarebbe la possibilità non solo di contenere raccontare il mondo ma anche di darsi un'idea del cosmo quel giovinetto si chiama Dioniso e Dioniso attraversò il mare per cercare di volta in volta un luogo dove andare a morire per rigenerarsi e quindi io chiudo con questo augurio perché ormai è Giano Ruz ormai è primavera ormai abbiamo sconfitto l'inverno e Dioniso ci darà la possibilità di rigenerarci come da sempre nei secoli è accaduto buon Mediterraneo grazie dottore per questa lezione profonda che attraverso questo discursus storico filosofico per certi versi anche poetico veramente a me personalmente mi ha colpito molto e la ringrazio iniziamo subito con le domande leggo una prima domanda che ci è arrivata in chat e poi prego di prepararsi Villo Paolino Culari Sagionevo ed Enrico Argentero per un blocco di tre domande vi prego di essere sintetici nella formulazione così proviamo ad aggiungere altre persone la prima domanda ce la fa Umberto Amato da Napoli che ci dice quali politiche concrete per riprenderci il nostro spazio nel Mediterraneo dieci anni dopo l'intervento militare contro Gheddafi quella di oggi indubbiamente quella di oggi Mario Draghi andrà a Tripoli quella di oggi significa prendere in pugno la situazione quindi non avere più l'ansia la preoccupazione di turbare la Francia ma soprattutto soprattutto essere chiari con il più potente alleato cioè gli Stati Uniti d'America far capire che comunque quel che accade là riguarda innanzitutto noi perché quando abbiamo perso il nostro ruolo in Libia vorrei ricordare non è che abbiamo perso soltanto indignità ma anche nel portafoglio perché c'erano degli investimenti importanti e perché c'erano c'era tutto un indotto e c'era tutta una qualità che l'Italia sapeva realizzare e rendere concreta con la sua politica grazie grazie do la parola subito a Duilio Paolino che si è prenotato per una domanda prego sì buonasera scusate che ho un problema mi sentite? sì perché si sono scaricati devo riattivare l'app sì ecco pronto? eccoci noi la sentiamo sì sì perché si stanno scaricando e quindi stai al capo di ricaricare ok prego buonasera innanzitutto buonasera senta io limito a una parte del Mediterraneo perché il Mediterraneo è molto grande mi limito a fare a prendere la Tunisia la Libia e l'Algeria che sono tre paesi che conosco molto bene sì posso dire che in Algeria ho visto città romane come Tipasà il porto di Oslo sì sì in Libia la Lepismania non ho mai visto delle città e delle civiltà che sono state fatte dai galli o dai barbari che arrivavano dal nord Europa allora quello che mi chiedo è quello che lei ha detto perché noi ci ostiniamo a fare gli europeisti a tutti i costi quando l'Europa non vuole fare nulla per noi la partenza di Draghi forse è un segno oggi però dopo bisognerebbe partire come diceva lei con una politica industriale politica economica e con delle idee chiare che guardi non dietro e che se ne freghi di quello che l'Europa fa noi dobbiamo fare i nostri interessi come gli altri hanno fatto fino ad ora scusate se sono spazio un po' lungo grazie grazie preferisci rispondere subito o procediamo con gli altri due rispondo velocemente Adolfo Urso lo può spiegare bene perché ne ha avuto esperienza è fondamentale l'identità e la consapevolezza della propria storia soprattutto nella politica estera i cinesi per esempio sono gli unici al mondo ad avere un'idea molto alta dell'Italia a differenza delle altre realtà su cui non hanno nessuna soggezione non fosse altro perché loro sono convinti che l'Italia sia ancora la civiltà quella civiltà che si riferisce a Roma hanno scoperto negli scavi archeologici in Cina una lupa capitolina e l'hanno vissuto come un evento importantissimo proponendo gemellaggi e legandosi a noi come se fossimo ancora consapevoli di quella storia è un po' traumatico spiegare loro che nel frattempo non esiste più niente di quella storia e questo capita quando ci si confronta con delle realtà che non hanno mutato nei millenni sostanzialmente se lei sostituisce Xi Jinping con un imperatore non vedrà nessuna differenza ecco il problema nostro è un problema di essere stati depauperizzati della nostra stessa identità l'ignoranza è colpevole in politica doppiamente colpevole nella geopolitica per cento volte colpevole nella strategia dell'egemonia nel gioco della politica grazie do la parola a Cularis a Guionevo chiedo scusa per la pronuncia da Cuneo che si può intervenire per la domanda è in linea no procediamo allora con Enrico Argentiero da Varese sì buonasera a tutti grazie buttafuoco per queste parole sul Mediterraneo si sentiva anche il profumo io le parlo da Varese quindi da quella terra insubre che tante volte guarda più a nord che non al Mediterraneo ma io personalmente invece credo molto in quello che ha detto lei nella nostra anche funzione ormai perduta nel Mediterraneo e ne avevo scritto anche per la rivista Carta Minuta proprio nel periodo in cui per esempio i paesi frugali qui nel nord Europa ci come dire ci massacravano quotidianamente sulla questione dei conti e ne scrivevo proprio in questi termini cioè in chiave europea italiana in Europa e cioè noi non avremmo buon gioco nel se fosse possibile creare un fronte Mediterraneo al di là poi dei colori politici contingenti in particolare con la Spagna penso ma anche con gli altri paesi penso alla Grecia anche alla piccola Malta e creare non so l'equivalente del del blocco di Visegrad non so potremmo chiamarlo il blocco di Lampedusa non ci serverebbe sia in chiave europea che in chiave di ruolo geopolitico da riprenderci con forza nel Mediterraneo grazie 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 sicuramente sì sì ci vorrebbe però aiutiamoci con gli esempi non del passato remoto ma del recente passato e chi ci ha tentato ci ha tentato per esempio Bettino Craxi fu uno molto sensibile sulle questioni del Mediterraneo ci ha tentato Giulio Andreotti beh ci ha tentato Enrico Mattei Enrico Mattei se ne va via con un incidente diciamo così aereo Andreotti si ritrova a baciare Totò Riina e Bettino Craxi e Sule Adammamet col ditone in cancrena ho dato una risposta bene adesso non so se c'è un problema di linea del signor Curari Saghi Emevo che diceva che era in ecco prego sì la sentiamo ok buonasera professore prego faccia la domanda pure nella sua lezione ha parlato del grande gioco e non ha mai citato i Balcani secondo lei hanno qualche valore geopolitico o solo solo da dalla parte dell'Africa troviamo l'interesse perché comunque sia russi cinesi e turchi vengono per terra non vengono via mare grazie altro che certo che ce l'hanno tant'è vero che apposta ho fatto riferimento alle quattro civiltà egiziana l'Egitto la Persia la Grecia e Roma e soprattutto attraverso i due soggetti considerati nemici cioè la Turchia e la Russia che sono l'argomento fondamentale quello c'entra assolutamente e apposta forse non sono stato chiaro ho voluto segnalare come il Mediterraneo non è contenuto nei suoi confini ma è un Limes aperto un Limes aperto ed è l'unica possibilità di far transitare il futuro proprio perché ha questa molteplice rappresentazione e sempre in quella direttiva dell'este ho apposta fatto riferimento al percorso che lega le nevi bianchissime del nord con Bari e San Nicola per non dire del ruolo importantissimo della Chiesa Ortodossa un ruolo fondamentale molto più importante di quanto possa averlo la Chiesa Cattolica il ruolo della Chiesa Ortodossa dal punto di vista politico è definitivo tant'è che mi ha colpito una scena in particolare anzi un incastro di scena quando alla mesta cerimonia di insediamento di Biden con le mascherine con questa apnea di spavento addosso dall'altro lato c'era la celebrazione dell'epifania nel rito ortodosso e c'era l'altro comandante in capo uno era con la mascherina in quell'atmosfera raggelante l'altro invece si immergeva in una buca scavata nel ghiaccio e poi lentamente andava incontro all'accappatorio ma proprio lentamente lentissimamente con passo proprio devoto sto parlando dei famosi scambi di assassini grazie allora leggo una domanda che ci è arrivata in chat da Marco Dettori da Tassari secondo lei quale dovrebbe essere l'atteggiamento dell'Italia nei confronti del generale Haftar e ancora una volta interesse qual è il nostro interesse seguire la direzione dell'interesse grazie poi si era prenotato anche Carmelo Cosentino per un intervento poi ci abbiamo a conclusione sì grazie professore volevo dire questo io ricordo quando mi sembra di ricordare nei primi anni ottanta c'è stato l'embargo diciamo decretato contro l'Argentina per il caso delle Volkland e l'Italia allora ebbe unico paese occidentale il coraggio di dire non aderiamo all'embargo era l'Italia di quegli anni e lo confrontiamo con l'Italia che invece si è prostrata supinamente contro i propri interessi al caso Francia Gheddafi perché queste grandi differenze l'Italia era la stessa cosa è cambiato per lei professore è cambiata la struttura e l'organizzazione della politica c'erano i partiti all'epoca delle Malvinas c'erano i partiti e nei partiti c'era il confronto l'elaborazione il concetto e soprattutto l'identità l'Italia che lascia massacrare Togliatti è un'Italia che non ha più la possibilità di una struttura qual era il partito era ormai un'Italia a guida carismatica ecco era nella nella superficialità del del qui e adesso è la superficialità che ormai ha intossicato le dinamiche della politica e che non c'è in Francia e che non c'è in Francia perché non c'è in Francia solo una piccolissima osservazione se io vado in Francia per lavoro sono in un albergo accendo la televisione io vedo un dibattito in un talk show in cui i cittadini parlano della politica estera della Francia ma in Italia questo è al massimo riservato qui in un ambiente come il nostro al massimo ma questo dipende dipende sempre da questo guardi che l'ignoranza in politica è un problema è un gravissimo problema segna proprio la differenza in realtà se lei fa un esperimento su Roma vai a largo di Torre Argentina e ferma i passanti possibilmente romani nessuno ma proprio nessuno sono sicuro le dirà che cosa è successo a largo di Torre Argentina non lo sa nessuno e questa è la cifra la vera cioè ma si figuri chi chi mai possa io non divento le racconto un aneddoto all'epoca quando si si cominciava la celebrazione sul centocinquantenario dell'unità d'Italia per raccontare l'Italia venne fatta una proposta fare il picchetto d'onore alla tomba di Dante alla tomba di Virgilio e che c'entrano con Cavour ma l'Italia è l'Italia è Virgilio è una cosa che ovviamente per gli inglesi sarebbe inconcepibile per i francesi sarebbe inconcepibile per gli spagnoli sarebbe inconcepibile oggi noi festeggiamo il compleanno di una città importantissima per il Mediterraneo che è Venezia ma ovvio che Venezia prescinde il suo racconto la la serenissima la la via della seta ecco ci sono tante di quelle cose molto più grandi di quelle che possono essere le formule della politica quando poi è gravata dall'ignoranza quando le autorità si oppongono affinché venga esposto la bandiera della serenissima io ci rifletto sopra dico come si fa come si fa ecco un po' come la tristezza che prende nel vedere la povera bandiera giapponese priva dei raggi no? l'umiliazione a cui l'hanno voluta che hanno voluto infliggere gli americani al Giappone cioè tutte queste cose raccontano e descrivono azioni che poi determinano anche la possibilità di avere il portafoglio pieno cioè non sono scisse sono legate esempio che ha fatto lei dell'albergo è vero è così ma non lo so a me è capitato per esempio in Iran che è considerato come se fosse il posto peggiore del mondo non fanno altro che fare dibatti di politici in continuazione litigano continuamente sulla politica e meno male che non c'è la libertà io la vedo difficile riesco a immaginare piuttosto complicato altre cose va bene ecco grazie professore grazie a voi grazie la vediamo un po' scuro mi vedete scuro perché è andata via la luce elettrica ah ecco ok allora io direi di andare a conclusione chiedo se il presidente Urso vuole fare un suo intervento un suo saluto sì volentieri semplicemente per salutare con voi Pietrangelo che conosco direi da quando lui era ragazzino e io poco più di lui perché ci differenzia qualche anno di età che allora sembrava tanto e oggi sembra poco come sembra accade quando si invecchia Pietrangelo tra l'altro lo dico senza svelare nessun segreto nasce come giornalista quando comincia a scrivere nella rivista che io dirigevo allora proposto Italia una rubrica che gli sollecito che è la rubrica di Dragonera Dragonera era sostanzialmente lui un personaggio da lui inventato un brigante siciliano perché di questa storia della sua Sicilia della sua identità della nostra Sicilia della nostra identità normanna araba greca cartaginese e quant'altro ancora lui era già da allora profondamente innamorato da questa lettere di Dragonera al gentilissimo direttore che però io della rivista poi è nato anche un libro e che credo che sia comunque una delle sue prime attività letterali ovviamente sono passati anni anzi sono passati alcuni decenni nel frattempo Pietrangelo è diventato un personaggio per tutti gli versi un giornalista uno scrittore anche se ora fa altro e di più ed è sempre una persona che riesce a dare delle idee anche divisive come quelle che ha anche fornito oggi ma delle idee e quindi della politica come c'è bisogno disperato in questo paese se si vuole tornare ad essere l'Italia che è sempre stata nei suoi millenni nelle sue differenti organizzazioni societarie o statuali che noi abbiamo avuto nel nostro lungo percorso di vita e il Mediterraneo è sicuramente il nostro mare una volta si diceva e non a caso comunque il nostro grande lago su cui noi abbiamo forgiato le nostre identità e attraverso il Mediterraneo quella europea e in cui noi dobbiamo ritrovare il nostro ruolo se vogliamo avere un ruolo in Europa e nel mondo lo possiamo avere soltanto presidiando il nostro ruolo nel Mediterraneo se non abbiamo un ruolo il ruolo il nostro ruolo nel Mediterraneo non contiamo più nulla né in Europa e nemmeno ovviamente nel mondo credo che questa sia la parola chiave su cui si dovrà scommettere la classe dirigente di questo paese nei prossimi anni grazie a Pietrangelo Buttafuoco e a voi di essere qui anche stasera siamo quasi in conclusione del nostro corso di formazione arriveremo dopo Pasqua alle sue conclusioni buon lavoro a tutti grazie e buona serata grazie a tutti grazie buonasera a tutti buona serata grazie 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 ciao buonasera arrivederci buonasera a tutti arrivederci grazie buonasera buonasera ciao a tutti ciao ciao Grazie.